Niente da fare per la Bartocini-Fortinfissi-Perugia che si deve arrendere 0-3 alla Saugella-Monza. Nel primo set la Bartocini-Fortinfissi si porta sul 6-4 con l'Ace di Bidias. Poi due errori in attacco di Monza consegnano il 10-6 a Perugia e costringono Coach Dagioni a chiamare il primo time-out della partita. Le ragazze di casa hanno qualche problema di troppe in ricezione e le ospiti si avvicinano sull'11-9. Questa volta è Bovary a fermare il gioco. La ricezione di Perugia continua ad essere difficoltosa e la Saugella allunga sul 15-20. Un muro su Taburelli porta le ospiti sul 18-23 che chiudono 18-25 con un altro muro sulla numero 16 di casa. Il secondo set vede ancora protagonista il muro della Saugella che va sul 2-5 con Ortman. Perugia si riavvicina con un muro di Monti Beller su Scorupa, ma un errore di Angeloni e una schiacciata di Ortolani e le battute di Ortman fanno scappare Monza sul 7-12. Gruppo Ortolani e un ace di Ortman fanno scattare Monza sul 16-20 che diventa 17-21 con Minerz. Due grandi giocati di Graschi e Bidias portano Perugia a contatto sul 21-22, ma Ortolani non ci sta e fa 21-23. Ehrman dà due set point a Monza che chiude subito 22-25 con l'attacco fuori di Monti Beller. Terzo set la Saugella mette la testa avanti 2-4 sin dall'inizio. Perugia torna in parità, ma Ortolani dà il 4-5 alle ospiti. La parità resta in equilibrio con la Bartocini forti in fissi che raggiunge due volte le avversari con due mure consecutivi di Mio Bertolo. La Saugella però prende il largo sul 18-23 con Ortolani e costringe Bovara a chiamare il timeout. Un errore in battuta di Mio Bertolo dà il match point a Monza. Pasquucci lo annulla, ma la contesa finisce 20-25 con Ortolani. Pasquucci lo annulla, ma la contesa finisce 20-25.